Sindaco, anche spoltore, si prepara lo screening di massa. Quando e dove ci si potrà sottoporre i test? Allora, noi abbiamo preparato una tre giorni che riguarda questo fine settimana, quindi inizio 7, venerdì 7 fino a domenica 10. Saranno tre i luoghi con quattro postazioni per fare i tamponi, quindi nel municipio la prima postazione, nel centro civico di via Basilea a Villa Raspa, la seconda postazione, e nel palazzetto dello sport presso la scuola primaria di Santa Teresa. Poi ovviamente se dopo questi tre giorni è necessario continuare, lasciamo aperto il centro civico di via Basilea a Villa Raspa per continuare con più persone possibili da monitorare. L'invito che facciamo è venire già muniti del modulo che potete scaricare, che i cittadini possono scaricare presso il sito del comune o comunque sono a disposizione del municipio in modo da evitare le file e quindi accelerare le operazioni di tampone. L'obiettivo è quello che quanta più gente possibile partecipe? Sì, perché uno screening ha senso se c'è almeno, ci dicono le dati AS, almeno il 30% della popolazione. Noi contiamo di farli e addirittura di farne anche di più, ecco, quindi con la massima collaborazione nei nostri concittadini riusciremo a dare questo importante risultato per il nostro territorio.